Bisognerà capire se Massimo Maravalle la notte dell'omicidio era o meno capace di intendere e volere, oltre a valutarne la pericolosità sociale e la capacità di sostenere il processo. A sviscerare tutti questi aspetti sarà lo psichiatra bolognese Renato Ariatti, che questa mattina davanti al GIP del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea ha assunto ufficialmente l'incarico peritale alla presenza anche del pubblico ministero titolare dell'inchiesta Andrea Papalia dei difensori di Maravalle, Forcillo e Emilia e dell'avvocato Vasile, che tutela Maxim, il bimbo russo di soli cinque anni ucciso dal papà adottivo la notte tra giovedì e venerdì scorso. L'esperto psichiatra, già perito di Anna Maria Franzoni nel caso Cogne e del boss di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, si è preso 90 giorni di tempo a partire dal primo di agosto, giorno in cui inizierà a studiare il fascicolo Maravalle, 47 anni, tecnico informatico, che è affetto da disturbo psicotico atipico, una malattia per la quale è in cura dal 2002. Sarebbe stata proprio la sospensione di questa cura, da quanto è emerso dalle prime indagini, a scatenare il raptus che ha spinto il papà a soffocare nel sonno il figlio e che, solo per una coincidenza di situazioni, non ha provocato la stessa fine anche alla moglie Patrizia Silvestri, così come ammesso dallo stesso Maravalle durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere pescarese di San Donato. L'incarico è andato benissimo, cominciamo il primo di agosto in maniera del tutto formale con l'esame degli atti, le parti si sono riservate, le nomine dei loro consulenti, fino a che non ci sono i consulenti non possiamo stabilire quando andare in carcere, cominciamo però il primo di agosto, abbiamo 90 giorni, c'è già un rinvio a novembre. Primo agosto dunque inizierete a lavorare? Ma solo puramente in maniera formale con l'esame degli atti perché non ci sono ancora le parti presenti con dei loro consulenti e si lavora tutti insieme, tutte le parti devono poter interloquire quindi finché non ci sono consulenti non possiamo fare niente. La difesa di Maravalle non ha scelto ancora il consulente di parte che comunque sarà nominato a breve. È stato affidato l'incarico, il perito ha preso un termine di 90 giorni, la prossima udienza sarà il 25 novembre alle ore 15 mi sembra, ma guardi no, noi questa valutazione sulla opportunità di misure diverse l'abbiamo rimessa già alla magistratura di cui ribadiamo, insomma abbiamo la massima fiducia e se ci si manifesteranno esigenze di tutela della salute particolari si provvederà in questo senso altrimenti attenderemo.